AGMeg News, l'informazione quotidiana sul gioco. Ha portato nelle casse dell'erario ben 13,6 miliardi di euro. Slot e videolotteri i maggiori contribuenti. Lotterie. Vincita record al Gratta e vinci in una tabaccheria di Groppello Danda, in provincia di Milano. Un cliente abituale del locale ha portato a casa 200.000 euro con un tagliando da appena 3 euro. Calcio. Nel derby Inter Milan, i bookmaker vedono favoriti i nerazzurri. Napoli pronto ad allungare in testa alla classifica nella trasferta di La Spezia. AGMeg, l'agenzia di stampa numero uno in Italia sul mercato dei giochi.